Eccoci qua, ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, studiando l'esercizio numero 24 della pagina 5 dello stick control, ho notato che lavorando un po' di fantasia e ponendo un accento, per esempio, sul primo movimento della seconda quartina di crome e sul primo movimento della quarta quartina di crome, ne è uscita fuori una cosa molto interessante. Infatti vi sfido, sfido diciamo è una parola un po' provocatoria, a pubblicare un video con questo esercizio. Così magari riusciamo anche a trovare altre idee. Dai, fatevi sotto. L'esercizio adesso ve lo eseguirò a 150 bpm, ripeto, ponendo l'accento sul primo movimento della seconda quartina di crome, primo movimento della seconda quartina di crome, e primo movimento della quarta quartina di crome, ok? Pronti? 150 bpm? Parto. Via. 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 Ok. Questo era l'esercizio. Secondo me è molto musicale Lo stick control è veramente un bellissimo libro Se usato sempre con fantasia E mente aperta Vi sfido Ad inviare i video Anche sotto nei commenti Ok Sfido, ripeto, è una parola molto provocatoria Però vi può stimolare a studiare Lo stick control in maniera più divertente Ok Ciao e a presto